bentornati amici e amiche sul canale da francesco per una rubrica che so apprezzate tantissimo e sto parlando dei 5 trucchi per il tuo iphone che arriva al settimo episodio e che è dedicato completamente ad iOS 15 arrivato fra noi da solamente pochissimi giorni e vi invito anche ad andare a vedere il mio video arrivato proprio il giorno del lancio in cui vi mostro tutte le novità principali tutte le novità più importanti e che hanno debuttato proprio su iOS 15 le trovate qua sopra in scheda o sotto in descrizione e vi dico anche grazie perché ha già superato in poco di una settimana le 50 mila visualizzazioni vedremo quindi 5 trucchi esclusivamente presenti in iOS 15 ma prima vi chiedo come sempre per favore di lasciare un like al video ed effettuare l'iscrizione al mio canale attivando anche la campanellina di notifica che vi terrà sempre super aggiornati sui prossimi video in arrivo vi invito anche a seguirmi sul mio profilo instagram in continua crescita grazie unicamente a tutti quanti voi ma anche su telegram dove c'è il mio canale pubblico in cui vi rilascio le informazioni e le novità su cui sto lavorando i video che sono arrivate ma anche offerte che vi permetteranno di risparmiare degli euro se volete acquistare accessori apple dispositivi apple ma anche altri oggetti inerenti al mondo del video making infine come sempre se vi piacerà lo sfondo che state vedendo sul mio iphone troverete sempre qua sotto in descrizione il link per scaricarlo immediatamente ma adesso che siamo pronti adesso che vi ho detto tutto andiamo a vedere i nuovi 5 trucchi per il tuo iphone che ho preparato solo ed esclusivamente per tutti voi per il trucco numero uno comincio decisamente fortissimo perché voglio mostrarvi una funzionalità che aspettavamo da tantissimo tempo e che è stata introdotta finalmente quest'anno con ios 15 e sto parlando di quello che in inglese chiamano drag and drop cioè il trascinamento di elementi fra più app direttamente sugli schermi del nostro iphone e parto mostrandovi come farlo con una fotografia richiamo quindi l'app foto dove all'interno ho tutta la gallery delle immagini che ho scattato e a questo punto scelgo la foto che voglio per dirvi spostare su note ci faccio un tap prolungato fino a quando non compariranno il pop up verso l'alto e le azioni rapide da eseguire ma non lascerò il mio dito ma lo trascinerò invece verso l'alto fino a quando non vedrete l'immagine fluttuare proprio all'interno dello schermo del vostro iphone a questo punto dovrete usare l'altra mano o un altro dito per agire normalmente come fareste nelle condizioni normali quindi faccio uno swipe verso l'alto che mi riporta nella home apro note faccio un tap su nuova nota e a questo punto andrò nel corpo e rilascerò il dito e la foto walla eccola qui trascinata dalla foto alla note lo posso fare però anche con più immagini quindi non dovendolo fare una volta per immagini ed è davvero semplice perché ritorno alla foto nella galleria e faccio esattamente la cosa che abbiamo appena visto quindi scelgo una foto ci faccio il tap prolungato aspetto mi muovo verso l'alto quindi fino a quando non fluttuerà e vado a scegliere le altre immagini semplicemente con un altro dito che si aggiungeranno avete visto sotto il dito che tratteneva la prima quindi anche questa e anche questa a questo punto ancora una volta richiamo la schermata home con uno swipe verso l'alto richiamo note mi muovo nel corpo rilascio e dopo pochissimi istanti ecco che tutte le immagini che avevo selezionato sono confluite le ho trasportate dalla foto alla note la cosa però è davvero interessantissima perché non funziona solamente per le foto ma ad esempio su tutti gli elementi già inclusi in ios 15 e in tutte le app di sistema di apple è chiaro che alcune app di terzi non funzionano ancora perché gli sviluppatori stanno integrando gradualmente tutte le novità presenti in ios 15 quindi è solo una questione di tempo perché comincino a funzionare su tutte le app che avete installato vi faccio vedere adesso un altro esempio davvero comodo che è quello di condividere di trascinare un indirizzo web se state navigando su safari ad esempio con qualcuno via messaggi e dirgli guarda vai a visitare questa pagina cosa faccio quindi che chiamo safari e mi muovo all'interno di una qualsiasi pagina web io per esempio apro questo articolo di mac rumors cosa faccio ora come prima faccio un tab prolungato sulla barra degli indirizzi la trascino verso l'alto fino a quando l'indirizzo stesso non fluttuerà quindi richiamo la schermata home con uno swipe verso l'alto apro messaggi vado a prendere l'interlocutore a cui voglio inviare questo link nel mio caso prendo il mio contatto mi si apre la chat e non faccio altro che spostare all'interno del campo dove scrivo il messaggio esattamente il link e voilà eccolo qui comparso mi basterà poi fare invio e il messaggio sarà inviato quindi trascinato rapidamente un indirizzo con messaggi e l'ho inviato e questo era il primo trucco che sono certo vi servirà tantissimo per migliorare l'esperienza in ios 15 per il secondo trucco della giornata vi faccio vedere una funzionalità che secondo me tra le più potenti di quest'anno introdotte in ios 15 riguarda la possibilità di rintracciare del testo all'interno delle immagini e copiarlo incollarlo da altre parti in realtà questa funzionalità ve l'ho già mostrata nel mio video riassuntivo di tutte le novità di ios 15 che trovate come prima qua sopra in scheda e sotto in descrizione e dove all'interno vi mostro proprio come si faceva con le fotografie che avevamo già scattato e che erano già presenti all'interno della nostra galleria in questo caso vi faccio vedere la funzionalità in più perché si può fare live quindi in diretta direttamente con la fotocamera lui andrà a individuare e a copiare per noi il testo attenzione però c'è una nota perché questa funzionalità funziona solamente sugli iphone che hanno il chip a 12 bionic quindi da iphone 10s in su gli altri purtroppo proprio per un motivo di potenza di calcolo non ce l'hanno non funzionerà e quindi non sarà disponibile vi faccio vedere come fare per mostrarvi al meglio questa funzionalità questa modalità live di acquisizione del testo con la fotocamera ho preso una scatolina di una cover di iphone 13 l'ho messa qui di fianco e la userò come esempio perché c'è un testo proprio sopra la sposto un pochino più in alto per mantenervola comunque visibile anche a voi nell'inquadratura qua sopra prendo semplicemente il mio iphone e non faccio altro che aprire l'app dei messaggi a questo punto entro in una qualsiasi conversazione prendo come sempre da esempio la mia e faccio un tap nel campo di scrittura quel campo che io utilizzerei per scrivere poi il mio testo a questo punto non farò altro che farci un singolo tap vedete che compaiono due voci in colla e un quadratino con all'interno del testo ecco qua faccio tap sul quadratino e voilà mi si apre proprio qua sotto al posto della tastiera e la fotocamera vedete che se mi muovo sto inquadrando qualcosa da uno degli obiettivi a questo punto semplicissimamente mi muovo fino a quando non inquadro il testo che voglio portare all'interno del messaggio vedete che in questo momento viene circondato di giallo con con dei dei cursori il testo presente nell'immagine e vedete anche che sopra appena sopra nel campo di scrittura è comparso esattamente quello che l'iphone sta leggendo diciamo che a questo punto mi va benissimo quello che ha visto faccio tap su inserisci ecco qui e io avrò portato esattamente quel testo all'interno dell'app messaggi e del campo di scrittura voi pensate magari a un indirizzo a un email a un codice fiscale a un iban vi basterà in questo modo inquadrarlo l'iphone lo riconoscerà in live mode e ve lo farà diventare testo incollandolo esattamente dove stavate scrivendo e questa funzionalità non va solo su messaggi ma su tutte le app di ios basterà fare il tap mentre state scrivendo e comparirà questo quadratino non ci fate tappa ancora una volta e il gioco sarà fatto ritengo che sia veramente una delle funzionalità più potenti all'interno di ios 15 ed eccoci arrivati al terzo trucco che riguarda le dimensioni del testo e dei nostri iphone come sapete benissimo da sempre noi possiamo decidere di aumentare o di calare le dimensioni del testo all'interno di iphone però questa cosa questa modifica riguardava sempre e comunque tutto il sistema operativo tutte le app tutti i menu e persino le schermate home di ios e questo magari a volte era un limite perché volevamo ingrandire una lista di messaggi e magari lasciare però la schermata home con quella dimensione e non era possibile diventa tutto ciò fattibile in ios 15 ed è davvero semplice per prima cosa però va aggiunto un pulsante al centro di controllo e andiamo a vedere come fare richiamiamo quindi le impostazioni ci muoviamo proprio in centro di controllo e ci assicuriamo che questa voce dimensioni testo sia aggiunta al centro di controllo e per farlo mi basta fare il tap sul più eccola qui che è comparsa sotto nel centro di controllo quindi se lo richiamo eccola qua vedete le due a una piccola e una grande che ha fatto la sua comparsa nel centro di controllo ora mi sposto sulla schermata home e dico voglio aumentare le dimensioni del testo le dimensioni generali all'interno della schermata home ma far sì che in tutte le altre app resti esattamente com'è in questo istante quindi cosa faccio richiamo il centro di controllo nella schermata home faccio tap sul nuovo pulsante e vedete che compare un selettore e verticale in cui andrò a decidere la dimensione del testo ma soprattutto sotto ho la possibilità di passare a tutte le app quindi quando è selezionato modificherò come prima tutte le dimensioni del testo in tutto ios ma se invece faccio tap su solo schermata home potrò andare a portare per esempio a 160% il testo e questo si modificherà solo nella schermata home se infatti apro safari vedete che il testo è rimasto esattamente nella dimensione di prima riproviamo un secondo perché voglio farvi vedere anche come calarlo che è la stessa identica operazione quindi richiamo il centro di controllo richiamo le due a e torno a 100% mi dice default quindi la dimensione generale che ho impostato riguardo la schermata home e la vedete che è tornata esattamente alle dimensioni di prima vediamolo però in un'altra app ad esempio in messaggi quindi richiamo messaggi vedete che c'è la lista dei miei messaggi richiamo ancora una volta il centro di controllo e faccio tap sulle due a mi assicuro che sia selezionato solo messaggi e andrò a ingrandire a 160% anzi facciamo così 190% vado a rivedere messaggi e guardate come si è ingrandito il testo ma se ritorno alla home la home è rimasta esattamente come prima quindi è un modo facilissimo per personalizzare le dimensioni del testo app per app schermata per schermata ricordandovi sempre che la cosa importante che dovrete per prima cosa aprire un app e richiamare il menu del centro di controllo far sì che venga selezionato che selezionate quell'app quindi in questo caso solo messaggi e selezionare la dimensione io la riporto al 100% per farvi vedere che è tornata esattamente come prima per il quarto trucco della giornata vi faccio vedere una funzionalità tutta nuova in ios 15 che ne sottolinea ancora il carattere teso a migliorare la concentrazione e relax che otteniamo utilizzando iphone e si tratta di quelli che vengono chiamati suoni di sottofondo ovvero suoni rilassanti che possiamo attivare in qualsiasi istante e che ci aiuteranno a mantenere la concentrazione e a disturbarci meglio perché no anche a vivere un momento di relax e questi suoni si trovano all'interno del menu impostazioni e vi faccio vedere come arrivarci richiamo quindi impostazioni e mi muovo in accessibilità scendo un attimino fino ad arrivare a contenuti audiovisivi ci faccio un tap e vedrete suoni di sottofondo io ci entro ed eccoli qua li posso attivare con l'interruttore e scegliere fra questi suoni quindi rumore rosa rumore bianco rumore marrone oceano pioggia o ruscello se per dirvi scelgo oceano in questo momento l'iphone dai suoi altoparlanti o se ho le cuffiette che siano airpods o qualsiasi altra cuffia mi arriverà questo suono dell'oceano che come sapete è molto rilassante alzando il volume si sentirà davvero tanto e potrà essere un modo di svolgere un'attività o di mettermi un secondo in relax vivendo un'esperienza davvero portata a raggiungere questo scopo ogni volta che lo vorremmo attivare questa funzionalità dovremo ahimè tornare nel menu ma ho anche qui una scorciatoia da mostrarvi che vi permetterà di attivarlo rapidamente vi faccio vedere fra pochissimo come fare il menu e dei suoni di sottofondo si aggiunge comunque del volume che possiamo dare a quel suono e se usarlo o meno durante il la riproduzione di file multimediali nel mio caso lo disattivo perché se ascolto una canzone non voglio che si sovrapponga questo suono e nel caso in cui si attivo possiamo decidere anche il volume che deve avere durante la riproduzione di altri contenuti multimediali e per farvi vedere invece come renderlo accessibile immediatamente senza dover tornare tutte le volte nel menu impostazioni in accessibilità torno indietro un secondo fino alla schermata principale delle impostazioni e scendo ancora una volta come vi ho fatto vedere poco fa al centro di controllo apro il centro di controllo e mi assicuro che la voce udito sia nel centro di controllo quindi se non l'avete fate sì che compaia in alto e basta fare tap su più eccola qua è comparsa nel menu del centro di controllo se lo richiamo ecco qui l'orecchio l'immagine che apple ha scelto di impostare per questa funzionalità mi basta farci un tap ed ecco qua che mi fa vedere i suoni di sottofondo mi basta fare un tap sul nome del suono per cambiarlo ad esempio in questo momento voglio il rumore della pioggia torno indietro e ci scelgo persino il volume se invece lo voglio disattivare o attivare perché nel mio caso raggiattivo mi basterà fare il tap sul pulsantino in basso e lo attiverò o disattiverò e mi permetterà di attivare comodamente questi suoni che sono davvero molto rilassanti il quinto e ultimo trucchetto che vi voglio mostrare in questa giornata riguarda le traduzioni come sapete già dall'anno scorso con ios 14 apple ha introdotto l'app traduci che funziona un po come google translate che quest'anno è stata davvero migliorata e vi posso dire che nei test che ho fatto si è avvicinata tantissimo se non a livello proprio di google translate la funzione però che vi voglio mostrare oggi non necessita per forza di passare dall'app traduci perché in qualsiasi parte di ios è stato introdotto un menu rapido che ci permetterà di tradurre immediatamente del testo in qualsiasi lingua supportata dall'app traduci e vi faccio vedere come fare prendo da esempio safari e vado a navigare in una pagina in lingua inglese e a quel punto mi dico voglio tradurre questo testo rapidamente quindi cosa farò andrò a selezionare questo testo facendoci una pressione prolungate quindi andandolo poi a selezionare rilascio e vedrete che compare la voce in alto dopo coppia e cerca che si chiama proprio traduce a questo punto mi basta farci un tap ed ecco qui che mi viene tradotto dall'inglese all'italiano io posso anche andare a vedere a tutto schermo questa traduzione che mi compare nella lingua blu potrò anche decidere di riprodurla con la voce di siri ma potrò anche copiarla per incollarla magari in un messaggio potrò cambiare ovviamente le lingue se per dirvi le lingue di traduzione non erano quelle corrette potrò aggiungere alle preferite che si trovano nell'app traduci o addirittura richiamare l'app traduci dove avrò sicuramente più opzioni e più modalità che mi permetteranno di tradurre questo testo la cosa bellissima è che questa funzionalità funziona all'interno di tutto ios quindi in qualsiasi app che andremo ad aprire che andremo utilizzare ci basterà selezionare quel testo aspettare che compaia il menu e fare un tap su traduci e la traduzione non sarà mai stata così semplice in ios 15 bene questi erano i miei nuovi cinque trucchi che desideravo mostrarvi oggi e che riguardano esclusivamente ios 15 e quello che mi interessa adesso è sapere da tutti quanti voi cosa ne pensate di questi trucchi e del mio video li utilizzavate già li avevate già scovati sono una cosa tutta nuova insomma ditemi qua sotto numerosissimi cosa ne pensate quando passate da lì ovviamente e per favore vi chiedo di lasciare un like al video ed effettuare l'iscrizione al mio canale che dire vi ho detto tutto vi ho mostrato tutto questi erano i miei cinque trucchi del settimo episodio noi ci vediamo presto prestissimo qui sul canale un grande saluto da francesco ciao